buongiorno a tutti io sono andrea onofri sono responsabile vendita italia della divisione rilevazione gas portatile di onewell oggi sono presente allo stand di geas che è un nostro importantissimo distributore siamo diciamo collaboratori da tantissimi anni diciamo quasi storici sono quasi amici direi e diciamo che sono molto molto soddisfatto e fiero del supporto che ci danno sul campo perché sono molto molto preparati dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della vendita ma direi soprattutto rispetto ad altri distributori anche come service sono un centro assistenza molto 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 preparato su tutte le nostre linee di prodotti sono molto rapidi molto competenti per cui i clienti finali quando suggerisco o l'indirizzo verso il loro contatto non ho che feedback positivi per cui sono molto felice di lavorare con loro li consiglierei soprattutto perché hanno un approccio molto consulenziale quindi riescono molto facilmente individuare quali sono le necessità del cliente e suggerire le migliori soluzioni possibili e dopodiché ovviamente dopo la vendita danno anche un importante supporto all'avviamento dell'utilizzo della strumentazione e come dicevo poco fa anche poi la parte di service dopo che lo strumento è stato iniziato come utilizzo e ha bisogno di manutenzioni di calibrazioni di riparazione quant'altro